Salve a tutti ragazzi Siamo qui, io e il mio sorello mi sta dando una mano Stiamo passando il lucido, l'apertura lucida Come copertura diciamo così Ai due cavalletti dove era poi appoggiata la pedana Ovviamente non si vede perché è lucida ovviamente l'apertura La mia sorella sta finendo il secondo La prima passata, penso che dovremmo fare almeno un altro paio Più o meno Comunque si fa velocemente tutto Giusto per protezione Poi dopo passeremo, quando si asciutano questi Prenderemo la pedana e la appoggeremo appunto sui cavalletti Anche per vedere come va il tutto E poi ovviamente ci passeremo anche sulla pedana il lucido Ok? Io farò ovviamente tutto un video Sia questo Sia questo dei cavalletti che la pedana ovviamente Non dico che faccio due video di un minuto per ciascuno Va bene? Allora ci vediamo dopo, dai A dopo Ok ragazzi, ok Allora questa è Diciamo è tutta la scrivania Aspettate che mi metto un po' più distante Eccola qui È lunga 1,51 m e larga 3,84 cm E ovviamente poi verrà coperta sopra con un foglio di plastiglass Eccolo qui Scusate la luce E abbiamo passato io e mia sorella ovviamente La prima mano Della pittura diciamo Protettiva ecco La trasparente Adesso sta asciugando Ma ovviamente domani Faremo Una nuova passata Perché questa è una pittura che deve asciugare per 12 ore Quindi domani Ci facciamo la seconda passata Niente ragazzi Questo è quando Ci vediamo Nei prossimi giorni Ma io penso che Già da dopo domani La scrivania è bella pronta E Devo fare solamente il traslogo Ok? Quella scrivania che è mia Quella lì che ho deparato fino adesso Se la prende appunto mia sorella E niente Ah per quanto riguarda la canambo La I biliardo Il torneo Appena Mia sorella è pronta Cioè Un po' di tempo libero Iniziamo anche a fare il torneo Ok? Vabbè ragazzi Ci vediamo Alla prossima Ciao ciao Ciao